Grazie, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video youtube Allora, oggi sono qui per realizzare una tipologia di video che non era assolutamente in programma anzi è stata improvvisata negli ultimi 2-3 giorni e oggi, dato che avevo un attimo di tempo, ne approfitto facendo questo video anche per fare una sorta di ripasso chiamiamolo così, eccetera ho voluto mettere insieme le cose ed esserci qui prima di cominciare vi dico che sono felice da una parte che ci sia tutto questo mood invernale, autunnale tutto questo cambiamento, anche se adesso sono con il top ma ho un sacco di luci puntate e fa molto caldo fuori sta piovendo e c'è tantissima umidità quindi è anche per questo che sentite questa sorta di differenza, se vogliamo chiamarla così oggi sono qui per farvi una sorta di lezione di scienze umane e vi spiego anche il perché io non l'abbia voluta fare magari a giugno che sarebbe potuta essere utile a ragazzi o ragazze che magari dovevano scegliere a quale indirizzo poi orientarsi a settembre anche se in realtà, sì, no, sì, questo allora, non l'ho fatto a giugno innanzitutto perché non mi era venuta questa idea seconda cosa, mi è venuto questo testo, questo compito per casa e mi è subito venuta l'idea di approfittare di questa cosa essendo anche molto semplice e sbrigativa di per sé e quindi di fare questo video terza cosa, siamo all'inizio dell'anno quindi magari per un ragazzo che comincia quest'anno la terza media può essere super utile anche seguire un po' il corso dei video per informarsi, documentarsi e poi alla fine dell'anno capire che cosa vuole perché in teoria ci sono le scuole aperte ma tu questa scelta la fai durante il corso dell'anno è un periodo comunque di inizio, settembre quindi non ci vedo nulla di male e poi ripeto, a giugno non mi era venuta questa idea vi faccio anche una premessa super veloce innanzitutto questo video non è indirizzato assolutamente un pubblico femminile e un maschile come tutti quindi tutti siete venacciati assolutamente altra cosa, è il periodo dell'anno in cui io inizio a impappinarmi con le parole perché magari parlo veloce e finisce una cosa malissima quindi questo mio difetto devo cercare di parlare con più calma e suddividere meglio l'andatura delle mie parole perché magari, anzi sempre, ho tantissime cose da dire ma parlo molto veloce non mi controllo, se vogliamo dire così più o meno e rischio di impappinarmi terza cosa, questa non è una lezione di scienze umane e adesso vi spiegherò anche che cosa sono le scienze umane è una sorta di curiosiamo in una delle discipline delle scienze umane così tanto per vedere di che cosa si potrebbe parlare e come potrebbe essere frequentare un indirizzo di questo tipo per chi non lo sapesse io frequento la quarta superiore del liceo delle scienze umane questa scelta non me ne sono mai pentita di averla fatta e anzi se vi faccio un video oggi è proprio per aiutarvi e per dirvi che siete sempre voi che dovete scegliere e decidere non i vostri genitori o qualcun altro perché poi siete voi che per cinque anni andate a studiare sono sempre andata bene anzi scienze umane è una delle materie nelle quali vado meglio non so come sarà quest'anno però fino a questo momento è stato così non ho avuto nessun tipo di difficoltà sin dall'inizio un motivo però che voglio ricordarvi ancora una volta che secondo me ha fatto sì che io non avessi mai avuto problemi con questa disciplina è la passione e l'amore cioè se io avessi fatto una scuola di meccanica e magari non mi sarebbe interessata probabilmente anche se disciplina di indirizzo scuola di eccellenza eccetera sarei andata male perché sarebbe stata una cosa che il mio cuore non desiderava seguire in questo percorso di studi di cinque anni io poi mi trovo alle superiori ma se c'è un ragazzo, una ragazza, una mamma un papà, chiunque mi sta ascoltando in questo momento non chiuda il video ma anzi guardatelo perché è super interessante quello di cui andiamo a parlare oggi e vi fa capire che c'è difficoltà in tutto questo non esclude una cosa, non esclude l'altra però vi fa entrare un po' in un'ottica e vi fa conoscere anche questa disciplina che magari può essere sconosciuta per altre persone allora se io faccio questa tipologia di video è perché comunque un pochino brava o professionale mi reputo in questa disciplina cioè non significa che sono un insegnante o chissà cos'altro cioè lo faccio così da studentessa da studentessa a tu per tu a qualcun altro che ha piacere di seguire questo momento più scolastico del canale ecco, tutto qui sono felice perché questa settimana è una settimana, quella che va dal 19 al 25 di settembre ok, la penultima settimana di settembre sarà una settimana ricca di cambiamenti per me nuove cose poi vi racconterò se avrò modo, voglia, eccetera saprete anche voi e inoltre è cominciato Amici io lo seguo tantissimo, mi piace tanto è cominciata oggi la prima puntata domenica 18 settembre e mi piace molto l'ho trovato anche un pochino più innovativo e carino rispetto all'anno scorso spero di non trovare troppo trash ma di trovare un po' più di serietà ecco, forse quello sì però poi si vedrà, insomma siamo solo alla prima puntata voglio solo dirvi che mi è piaciuta questa cosa di associare la prima settimana di scuola all'inizio della prima puntata di Amici perché mi fa avere questa idea nella testa che anche loro cominciano a studiare e a fare questo percorso perché noi li vediamo dall'altra parte della baracca si dice così, non lo so dello schermo come degli eroini o delle eroine che esordiscono in un palco a fine settimana ecco, diciamo così ma loro in realtà hanno una settimana dove si fanno un mazzo così per poi arrivare e magari ricevere anche un brutto giudizio ecco, questo serve per farvi capire che è così anche nel mondo della scuola anche nel mondo del lavoro anche in qualsiasi altro mondo contesto lavorativo, scolastico, vita alternativa, extra voi siate però mi è piaciuta questa cosa tutto qua adesso noi andremo a iniziare questa sorta di lezione di scienze umane avverto che non sarà un video molto molto corto sappiatelo, ma anche perché se fosse una lezione a scuola sarebbe comunque un video cioè una lezione da un'ora insomma, 55 minuti quindi non sarà così spero almeno però al massimo lo divido lo accorcio io però ovviamente ha un suo sviluppo un suo percorso anche questa cosa qui allora, cominciamo subito le scienze umane sono delle discipline un insieme di quattro discipline che si occupano dello studio in vari aspetti molteplici a livello sociale politico economico culturale psicologico per tanti aspetti dell'uomo abbiamo l'antropologia che detta terra terra tra noi ok in poche parole è lo studio delle civiltà che fanno parte dell'uomo sì, dell'uomo scusatemi quindi sto parlando di per intenderci caccia raccolta tutte quelle cose un po' più preistoriche questo aspetto qui una sorta di storia dell'uomo se vogliamo chiamarla così poi c'è la sociologia che è quella che andiamo a vedere oggi che è una disciplina che si occupa dello studio dell'uomo quindi della società di tutti quegli aspetti di quelle problematiche che ci possono essere io ve lo dico molto rapido terra terra non è proprio proprio così ma giusto per darvi un'infarinatura o per farvi entrare per magari qualcuno guarda questo video affascinato per scoprire incuriosire ma non sa per dargli un'infarinatura tutto qua poi abbiamo la psicologia che è una forse delle più belle la mia preferita che è lo studio dell'uomo da un punto di vista da un aspetto psicologico quindi si va a vedere la mente i comportamenti le reazioni le risposte gli stimoli un insieme di aspetti dell'uomo da un punto di vista psicologico se è in positivo che in negativo ovviamente e infine abbiamo la pedagogia la pedagogia è uno studio dell'uomo e del bambino se vogliamo anche però andiamo a vedere tutte quelle fasce che riguardano il bambino le agenzie educative quindi parliamo di scuola di famiglia l'educazione che c'era un tempo per i ragazzi per esempio il ragazzo in Grecia il ragazzo no scusatemi sì il ragazzo in Grecia il ragazzo ad Atene il ragazzo a Sparta la differenza insomma si vedono vari aspetti si valutano e si incontrano in tutte queste quattro discipline vari autori che ti fanno poi avere nella loro testa una sorta di idea su quale potrebbe essere un loro punto di vista sull'uomo allora quello che noi andiamo a fare oggi è un breve 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 accenno di sociologia partendo da un testo ve lo faccio anche vedere questo qui è il testo se c'è qualche compagno qualche compagna all'ascolto è quello della professoressa di scienze umane che abbiamo per questa settimana quindi vi può anche essere utile questo video se c'è qualcuno che mi sta seguendo difatti vorrei farlo uscire tipo anche dopo domani volendosi non troppo lontano da cioè non troppo lontano per per esservi di aiuto ecco io questa lezione non me la sono preparata non ho un copione non ho niente avevo soltanto l'idea di farvi questa lezione di scienze umane che in realtà è più di sociologia spero vi piacerà spero potrà essere una cosa curiosa interessante particolare e darvi un po' di stimoli un po' di spunti vi ho fatto questa introduzione avete capito un po' anche che cos'è la sociologia adesso oggi cercherò di parlare e di raccontarvi questo testo di Franco Ferrarotti se avete piacere potete approfondire la sua conoscenza la sua natura ma è un semplice testo che iniziale che ho ricevuto a scuola nulla di che è e niente abbiamo questo testo e facciamo una piccola analisi vediamo come sarà sono felice perché la mia prof ha voluto darmi uno stimolo diverso rispetto al solito cioè invece che magari fare la solita classica lezione cominciare a spiegare un argomento eccetera ci ha assegnato questo testo per casa la comprensione di questo testo ok quello che vorrei fare oggi io è leggerlo insieme a voi e commentarlo tutto qui però credetemi che questo aiuterà a me perché ovviamente lo vado ad analizzare un po' più con calma ve lo spiego e ripasso in un certo senso faccio questo compito per casa però è un modo alternativo anche per introdurvi questa disciplina che secondo me non è così scontato così banale o inutile come idea quindi lo vediamo un attimo allora analisi e comprensione di un documento proprio quello che siamo per fare adesso vi leggo la consegna allora il sociologo e professore emerito di sociologia dell'università di Roma alla sapienza quindi se c'è qualche ragazzo e ragazza di Roma all'ascolto ciao Franco Ferrarotti nel suo manuale di sociologia esplora in modo dettagliato e completo tutti i temi i concetti gli strumenti i compiti di questa disciplina in particolare nel primo capitolo dedicato alla descrizione della sociologia come scienza perché la possiamo vedere anche in vari aspetti in varie sfaccettature ma qui la vede come sociologia come scienza la definisce strumento di autoascolto della società industriale legge attettamente il brano sulle origini e il senso della sociologia e risponde alle domande io le domande non risponderò in questo video non farò nulla di che lo andrò a leggere e andrò un po' a teorizzarlo a argomentarlo insieme a voi a me non ha senso leggere tutto il testo e poi darvi una spiegazione perché si perde la connessione non si capisce più niente diventa una cosa troppo pesante e lunga e potrebbe annoiare io ho l'idea di leggerlo è un breve testo lo leggeremo in tre minuti neanche l'idea mia era quella di leggerlo passo passo e darvi qualche infarinatura e qualche idea a mano a mano che lo leggevo premessa saluto due miei compagni di classe che mi hanno dato qualche accenno e anche forse mi hanno fatto venire l'idea per fare questo video perché quando l'ho letto da sola forse l'ho letto anche male di fretta non lo so anche se avevo provato più volte in classe a leggerlo avevo capito veramente poco loro mi hanno detto in due minuti due concetti così buttati lì ma io sono riuscita a unirli collegarli insomma a fare qualcosa e mi hanno aiutato tantissimo quindi se vedrete questo video grazie perché siete state molto gentili con me tra l'altro altro aspetto super interessante se avete domande visto che in questo momento mi sento un po' nel ruolo della professoressa guardate che va gli miei orecchini se avete domande scrivetele giù nei commenti e in un video magari vlog insomma in altre occasioni che avremo vi risponderò purtroppo qui non è una live non faccio ancora live e quindi non posso darvi una risposta a seguito magari questo video sarebbe stato figo se fosse stata una live però in questo caso non abbiate paura o esitate nel fare domande anzi se magari siete spaventati eccetera lo fate su whatsapp per chi ha il mio numero oppure su instagram nei direct lì state tranquilli che se non io non vi legge o non vi sente nessuno allora la sociologia come scienza del sociale abbiamo visto che prima Ferrarrotti ci chiede di avere un punto di vista della sociologia da un punto di vista scientifico ok trova nelle sue stesse imperfezioni le ragioni profonde del proprio primato cioè dice tutta la sua origine tutto quello che è stato la sociologia credo ovviamente questa è una mia interpretazione da un punto di vista di quello che io ho capito personale non è detto che sia così stavo dicendo la sociologia Ferrarrotti la individua da un punto di vista scientifico bella proprio nella sua imperfezione ed è questo che fa sì che abbia un'origine che ci sia una spinta che fa sì che nascano poi degli studi sulla sociologia teoria e società non si fronteggiano non sono esterne l'una rispetto all'altra quando parliamo di teoria intendiamo tutto ciò che è argomentabile e quando parliamo di società intendiamo tutto ciò di più concreto e pratico quello che vuole dire lui è che si condizionano e si richiamano cioè sono connesse l'una all'altra è come quando parliamo di teoria e pratica nella scuola guida in matematica in algebra in tante discipline e tante materie la scienza è il tentativo di risposta a problemi e bisogni storicamente maturi sì cioè nel senso è questo tentativo di risposta ma è anche una sì possiamo chiamarla una risposta anche a una curiosità dell'uomo quindi la scienza potrebbe essere anche quella chiave che ha fatto sì che vari dubbi di varie persone di un certo rango di un certo livello potessero poi sperimentare e elaborare scusatemi varie teorie per dare una risposta a un qualcosa che non al quale non trovavano magari un senso potrebbe essere anche questo altre cose che magari vedrò o darò per scontate non le leggo non le affronto insomma perché dico queste magari possono rifarci da sole insomma o magari non ho niente da dire o magari non l'ho capito quindi lascerò vuoto a quali esigenze risponde e cerca di rispondere la sociologia che vi ricordo che è una disciplina che si occupa di analizzare l'uomo da un punto di vista sociale in tutti i suoi fattori quindi economico politico culturale eccetera eccetera a quale società ha fatto riferimento la sociologia queste domande poste all'inizio di un testo di questo tipo tante volte ci possono aiutare per creare e darci una infarenatura di che cosa vuole proporci dopo solitamente è questo lo scopo si pone qui il problema del rapporto tra sociologia e società industriale qui diciamo l'autore arriva a mettere un punto a quello che è ciò di cui vuole parlare e quindi dice arriviamo quindi a capire il nesso che c'è tra sociologia e società industriale poi lui parlerà di società tradizionale società industriale sociologia scienza quindi lui dà tutti questi input per cercare di dare nell'essere umano che legge questo brano un momento e dire ma quindi questo come si collega a quell'altro questo è l'obiettivo che lui ha forse lo sto spiegando un po' troppo veloce un po' troppo difficile non lo so però se provate a starmi un po' dietro forse riuscite anche un attimo a capire io spero poi fatemelo sapere nei commenti mi raccomando ok si parla spesso di crisi della sociologia si dimentica di soggiungere che la sociologia è nata dalla crisi quindi io mi ero scritta una frecetta che la sociologia nasce proprio da un cambiamento da una esigenza di risposta a un cambiamento della società essa è figlia di una grande rottura storica quella che ha visto sorgere la società industriale moderna quello che lui vuole Franco Ferrarotti vuole farci capire aspettate che metto un punto è che la lente che ha fatto sì che ci fosse che potesse distinguere la società tradizionale da quella industriale quindi quella moderna è stata proprio la sociologia la sociologia è quella entità che racchiude un significato che ha fatto sì che ci fosse questo cambiamento questo cambiamento da una società all'altra viene spiegato dalla sociologia le società tradizionali paleotecniche e preindustriali fondate sui costumi quindi sapete tradizione è come quando si parla dei valori del mos maiorum se avete presente quindi cultura usi costumi tradizioni valori eccetera di un popolo di una cultura e dotate di un'economia di pura sussistenza non avevano bisogno della sociologia infatti lui ci vuole far capire che nelle società no scusatemi sì nella società tradizionale non c'era la sociologia ma anche perché nasce dopo ok non avevano bisogno della sociologia anche perché non c'era un bisogno che non c'era bisogno che un qualcuno spiegasse perché quelle persone si comportassero in quel modo perché era una società tradizionale era sempre stata così da sempre l'uomo cacciava e raccoglieva da sempre l'uomo piantava le piante da sempre l'uomo allevava gli animali quindi non c'era un cambiamento con un'industria con una modernizzazione con un'industrializzazione e quindi era tutto basilare e semplice sempre uguale quindi non c'era bisogno di un cambiamento e di nuove domande nuovi stimoli nuove risposte poi quello che ci vuole dire è quando la tradizione viene meno cioè quando non parliamo più di una società tradizionale la sociologia sorge come strumento di autoascolto del dinamismo quindi è quella mediazione che cerca di capire e di comprendere questo dinamismo quindi questo cambiamento della società immanente che segna come caratteristica essenziale la società industriale quindi da società tradizionale a società industriale la sociologia e quindi qui vuole darci una definizione di sociologia anche per questo mi è venuta questa idea perché è un testo molto insomma abbastanza secondo me complesso non difficilissimo perché non letti di peggio però abbastanza complesso ma essendo che vuole partire proprio dall'inizio della sociologia e la professoressa ha detto che era la prima pagina di un libro di sociologia non sono tutte le discipline delle scienze umane però magari un'idea ve la può far avere è vero anche che la sociologia è molto difficile rispetto magari alla psicologia quindi se avessi fatto una lezione di psicologia sarebbe stato meglio ma arriverà anche quella non preoccupatevi quindi la sociologia è quindi la scienza della società ma non di qualsiasi società quindi dice che vuole avere un criterio una definizione e un limite quindi non andare a vedere tutte le società per intenderci bensì di quel tipo di società che è storicamente tanto ardimentoso e irresponsabile da rinunciare alle certezze ricevute dal passato quindi essere una società che è risposta anche a un dinamismo a un cambiamento per esprimere da sé dal proprio interno i propri valori quindi può essere anche che ci sia sì un certo tipo di valori antichi di un certo tipo di tradizione ma può essere che questa società se poi avrà degli stimoli per migliorarsi che lo faccia se invece io mi trovo davanti a una società che è sempre quella statica ferma e non vuole essere dinamica non è disposta ad un'apertura anche sociale a un cambiamento allora quella non mi interessa e non è quella che io vorrei che la sociologia studiasse i propri valori operando la transizione dal concetto di società come dato immodificabile di natura a quello di società come progetto razionale quindi una società che vuole anche migliorarsi da un punto di vista della psiche e come prodotto di cultura stessa cosa è vero credere nei propri principi valori usi costumi tradizioni di un tempo ma anche perché no di nuovi stimoli che magari il mondo può dare a questa società al giorno d'oggi o al tempo di quando è stato scritto questo brano fra sociologia e società industriale si dà pertanto un nesso che non è meramente cronologico bensì funzionale cioè qui ci dice che non conta tantissimo il tempo nel quale noi analizziamo questa cosa ma sociologia e società industriale vuole farci capire questa cosa da un punto di vista proprio concreto di quello che vi ho parlato tutto il tempo prima questa funzionalità si esprime su piani e in modi molteplici e si corrisponde alle caratteristiche di base della società industriale rispetto alla società tradizionale virgola la società industriale già quando leggete questo tipo di frasi vi deve subito scattare l'idea che qui l'autore vuole farvi capire un confronto una differenza subito la differenza che c'è tra società industriale e società tradizionale che nella consegna nel titolo prima non aveva accennato ma qui vuole farcelo magari come un effetto sorpresa vuole farcelo capire dopo non lo so la società industriale presenta una serie di tratti che la definiscono nella sua unicità storica essa è in primo luogo dinamica innovativa la società tradizionale è una società statica ferma quello che vi dicevo prima sostanzialmente ripetitiva che si regge su un'economia chiusa sempre la stessa cosa lo stesso lo stesso andamento insomma il cui andamento wow ve lo giuro non l'avevo letto il cui andamento ciclico è perfettamente prevedibile non riesco a farvi un esempio ma se lo dovessi inventare una società sperate che metto un punto una società tradizionale potrebbe essere facciamo un esempio in una regione a caso del Veneto ok in Piemonte a casissimo lo sto inventando è inventato non rompetemi le scatole in Piemonte tempo fa c'era un gruppo di una tribù una popolazione che tutti i giorni si dedicava alle passeggiate in montagna per coltivare un certo tipo di piante per portare al pascolo bovini ovini eccetera eccetera questa cosa la fanno da anni mangiano sempre queste stesse cose si importano le cose scambi commerciali sempre all'interno della loro società eccetera questa potrebbe essere una società tradizionale perché è anni e anni che fanno sempre le stesse cose che si producono le materie prime con un commercio interno tra di loro senza andare a chiedere l'aiuto che ne so della Liguria sotto della Valle d'Aosta sopra quindi non so se mi sono spiegata ma questo è un esempio se invece l'esempio fa schifo non prenderò in ascolto in considerazione è una società in cui l'individuo come tale al di fuori e contro il gruppo d'origine tenta a farsi strada in essa non si diventa nulla si nasce quel che si diventa sempre in questo esempio inventato del Piemonte un tipico ragazzo che nasce da una famiglia in questa tribù in questa società difficilmente diventerà magari un cantante bravissimo non perché non possa ma perché nella società in cui si trova con le persone attraverso le quali vive e un po' in base a quelle che sono le origini quindi la società tradizionale quello che vi sto dicendo adesso stentano a fare questa cosa è più probabile al 95% che sarà un contadino un ragazzo per bene umile ma che però si occuperà della campagna della sua famiglia della sua piccola casa e così è probabile anche che facciano i suoi successori ok proseguiamo le istituzioni scandiscono con blanda sonnolenza le fasi prevedibili e collaudate di una placida routine per istituzioni credo che l'autore si riferisca alle agenzie educative quindi scuola famiglia paese piccolo comune piccole persone che praticano la politica le autorità insomma del suo paesino sempre prendendo l'esempio inventato da me segnano i tempi dell'eterno ritorno all'identico mamma mia la produzione avviene in vista del consumo e non del profitto questo era proprio quello che vi dicevo loro magari coltivano quei campi portano al pascolo i loro animaletti ma per sopravvivere non hanno magari un'idea per dire dai facciamo qualcosa ci ingrandiamo per avere più soldi per cercare una casetta ancora più carina di quella che abbiamo adesso eccetera a loro interessa essenzialmente sopravvivere sono fermi a questa idea non hanno degli stimoli per maturare da un punto di vista fisico e psicologico quindi rimangono fermi lì il ciabattino vede camminare gli abitanti del villaggio con le scarpe che ha fabbricato a ciclo completo partendo dalla materia prima per raggiungere al prodotto finito non c'è calcolo vale la consuetudine le stesse cose questa serenità troppo spesso cambiata per un idillio credo idillio non lo so da commentatori che esaltano le virtù dell'artigianato ma dimenticando il sudore dei servi della gleba è per sempre infranta dalla società industriale che si presenta sulla scena storica quindi abbiamo la società tradizionale poi arriva la sociologia che è quella disciplina e quella scienza che vuole cercare di spiegare questo cambiamento della società e entra così in gioco la società industriale la società industriale poi voglio sapere anche nei commenti se sono stata una brava insegnante per oggi che è quello che mi piacerebbe fare in realtà la società industriale capitalistica borghese rispetto alla società tradizionale questo tipo di società svolge una funzione nettamente rivoluzionaria gli aggettivi poi ce li aveva riportati anche sopra che sono aspettate diceva innovativa non la trovo non la trovo ci diceva prodotto di cultura progetto razionale cosa ci diceva ancora insomma tutta quella rivoluzione di cui parlavamo prima la spinta innovativa parte dai luoghi della produzione ma finisce per investire tutto il modo di vita il processo di industrializzazione è infatti un processo sociale globale adesso io ho finito di analizzare il testo però vi leggo le domande sotto ma non per rispondere perché ve l'ho già vi ho già detto in linea di massima quello che c'era da sapere ma perché scoprirete un qualcosa che vi sarà utile anche a scuola e fidatevi di me le domande sono 4 ci sono A, B, C, D domanda A quali sono le caratteristiche della società tradizionale? queste domande ragazzi sono letteralmente il riassunto fatto già dall'autore perché una volta che tu sai rispondere alle domande vuol dire che hai capito il testo e le domande tolgono tutta quella parte vedete che io ho evidenziato qualcosa ecco le domande tolgono tutte quelle righe in più magari per spiegare insomma aggiuntive e ti riducono a tutto quello che tu era importante che tu sapevi da questo testo e infatti quali sono le caratteristiche della società tradizionale? abbiamo detto riguardante usi costumi staticità non c'è un cambiamento nasce rimani come sei e non vi faccio il discorso perché l'abbiamo già detto prima poi che cosa distingue la società industriale da quella tradizionale? era uno degli obiettivi principali di Franco Ferrarrotti cioè di farci capire che quella tradizionale abbiamo detto legata a un passato e non a un dinamismo e quella industriale rivoluzionaria moderna cambiamento eccetera anche una visione da un punto di vista pratico e psicologico aperta basta poi ci chiede in che senso secondo Franco Ferrarrotti la sociologia nasce dalla crisi raga meglio di così la sociologia nasce dalla crisi perché abbiamo questa società tradizionale e non c'era e non c'era un bisogno di spiegarla perché era sempre quella e l'uomo non si poneva neanche delle domande in merito a questa a un certo punto cambia qualcosa c'è un dinamismo c'è un cambiamento c'è una sorta di crisi una sorta una sorta di stacco tra una società e l'altra e quindi c'è bisogno di spiegare questa cosa tac che arriva la sociologia come scienza che si interroga sul perché l'uomo adesso ha una visione una mentalità più aperta sul perché l'uomo vuole trarne un profitto oltre che a una sopravvivenza dal suo prodotto eccetera eccetera infine ci chiede che cosa intende l'autore quando dice che la società tradizionale non aveva bisogno della sociologia se prima facevano sempre le stesse cose era sempre lo stesso meccanismo di vita sempre gli stessi pensieri e la società era sempre quella che bisogno c'era della sociologia che come dice lui è una scienza che studia una società però il tipo di società che Franco Ferrarotti vuole che questa sociologia studi è quella società che è aperta anche un cambiamento oltre che alla tradizione la società tradizionale non lo era e quindi non ce n'era bisogno subentra una crisi un cambiamento un dinamismo e tac che per la società industriale quella moderna quella che vi ho spiegato adesso subentra la sociologia che aiuta una aiuta a spiegare scusatemi subentra la sociologia che aiuta a spiegare questo cambiamento questo dinamismo e questo passaggio dalla società tradizionale a quella industriale questa era la mia lezione di scienze umane per oggi spero di essere stata una brava insegnante non lo so io i miei compiti per oggi li ho fatti ne ho approfittato anche per fare questo video che secondo me vi sarà utile sarà super interessante anche per chi chi non fa un liceo delle scienze umane fidatevi di me fatemi sapere se sono stata una brava insegnante tutte le domande giù nei commenti mi raccomando supportate il canale attivi io vi aspetto domani alle ore 14 alle ore 2 qui sul canale con un nuovo video con un prossimo video mando un bacione ciao ragazzi buon pomeriggio